Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale pugliese Renato Perrini lunedì prima del ferragosto in visita agli ospedali della provincia di Taranto. Noi lo troviamo al cospetto del completato dal punto di vista infrastrutturale San Cataldo. Perché sto facendo un giro di tutti gli ospedali, adesso andrò anche a Mandoria, sono stata a Martina, a Santissima Nuziana e sto vedendo che gli ospedali, soprattutto i pronto soccorsi, stanno scoppiando. E poi stiamo qui, in questa opera che io da 8-9 anni dico che è un'opera che secondo me per il nostro territorio così grande non serviva. Nel nostro territorio servono i medici, servono gli operatori sanitari che non ce ne sono. Il risultato è questo, qua c'è un deserto, sono stati spesi 300 milioni di euro e gli ospedali stanno scoppiando. Dal punto di vista edilizio tutto bene per il San Cataldo? Si parla di inaugurazione il 31 dicembre 2024? L'ho sempre detto, è una cosa impossibile perché se non ci sono gli operatori sanitari come riempiremo questo ospedale? Sono anni che dico che questo ospedale servono le forze, servono i medici. Non hanno mai ascoltato i risultati che sappiamo benissimo che doveva essere pronta già due o tre anni fa questo ospedale. Siamo nel 2024, vediamo come sta, abbandonato. È polemico Perrini, anche se oggi più che piangere sul latte che è stato versato, è importante spingere affinché al più presto questa struttura sia a disposizione dei cittadini. Ci dice, è interesse di tutti che la sanità pubblica funzioni e funzioni bene. La soluzione è che bisogna investire sui medici, bisogna fare in modo che arrivino altri medici sul territorio. Non serve fare tante edilizie perché per riempire questo ospedale, caro direttore, servirà a chiudere Martina, Manturia, Santissimo Annunziato. Cosa è impossibile perché sappiamo benissimo che sia Manturia che Martina sono ospedali frontiere. L'unico ospedale che io ho sempre detto che bisognava cercare di ristrutturare è quello di Santissimo Annunziato. Fare un padiglione a fianco al Moscati sarebbe stata la cosa migliore.